Buongiorno, qui abbiamo un calendario, facciamo pure pubblicità a McShopping. Nei calendari cattolici c'è il nome dei santi, San Giuseppe, Artigiano, Cesare, San Filippo, eccetera eccetera. Ma perché c'è questi santi nel calendario? Perché la Chiesa Cattolica fa le persone, alcune persone le fa più di altri. Dicono questi sono più giusti di altri, questi hanno fatto del bene più di altri e meritano di essere chiamati santi. Quindi da qua si capisce che proprio l'insegnamento cattolico è proprio basato sulle opere meritorie. Perché non si capisce perché un santo è santo, è stato fatto santo. Per quale motivo? La verità è che tutti i credenti sono santi in Gesù Cristo. Inutile che mettete santo questo, santo quello e gli altri non sono santi. Non è così. Tutti i credenti sono santi in Gesù Cristo. Siamo stati lavati dai nostri peccati. Santo vuol dire che uno diventa puro, perfetto e ritorna all'essenza di quello che era senza il peccato. Gesù Cristo, morendo per i nostri peccati, ha cancellato tutti questi peccati, ci ha resi bianchi come la neve, dice un versetto. Per cui ogni credente è santo. Non solo, non quelli, ma neanche quelli che fa la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non può fare santi nessuno. Questa è una bestemmia, che la Chiesa Cattolica si permetta di fare santi le persone. Solo Gesù Cristo può fare santi. Morendo in croce, se noi crediamo in Lui, abbiamo la redenzione. La redenzione di ogni nostro peccato. Siamo perdonati e diventiamo santi. Le opere le facciamo di conseguenza, per amore. Perché Dio ci ha amati per primo, noi amiamo gli altri. Ma non per ottenere qualche cosa. Per esempio non si fa volontariato per ottenere qualche cosa. Si fa volontariato per amore degli altri. Punto. Quindi, al diavolo, la Chiesa Cattolica ha tutti i suoi falsi insegnamenti. Viva la verità di Gesù Cristo. Leggete la Bibbia. Credete in Gesù Cristo e diventerete santi. Buona giornata.